ah già si inizia ciao chissà cosa chissà cosa dobbiamo fare non lo faccio scusatemi buonasera ma è il po' con pizza ma tutti che ballano ma che bella città ciao signori non vedevo la tab da almeno 3 anni riportiamola in auge che figo ma voglio vivere qua ragazzi ma guarda come si rivertono guarda questi che stanno a fa' ma questi si sono fatti un un drogone di gruppo ebbai pure io sono fatti un drogone di gruppo si no lo scopo qual è? penso a nessuno guardare e dire che bello letteralmente è la pizza che c'è a sé e ragazzi che cazzo ma lo vediamo ma lo vediamo magari dentro al vulcano stanno facendo la pizza che ne sappiamo mi pare la cosa più logica che potremmo trovare e infatti ci sono tantissime pizzerie vulcano eh si c'è pulcinella che fa la pizza dentro al vulcano guardate qua ragazzi ho paura ho paura cosa per succedere? dimmi che fanno la pizza dentro mi devo buttare ragazzi mi butto? lo faccio? ma sta salendo oh no nooo povero pombo no non dimmi che li ammazzo tutti no eh è pomodoro non sai che potrebbe essere pomodoro ragazzi abbiamo fatto un casino? ragazzi credo che abbiamo fatto un piccolo casino signori 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 nooo non è pomodoro ma non è pomodoro ragazzi ho sbagliato no signori andate in salvo la salvo io no è lei no no signor scappa andate via ragazzi brucia andate via e ma aspetta proviamo a salvare queste persone signori è finito allora ma guarda guarda che scappa signore signori no vado a salvare il suo amico stia attendo c'è uno squalo signore dove va si fermi c'è uno squalo non vada niente non si fidano di nessuno ah ecco che cosa è la pizza bello ragazzi non mangiate la pizza con l'ananas ragazzi se no succede questo finire che gioco non era madonna ragazzi è stato incredibile che bella gita ci voleva proprio questa gita però dai cazzo bellissimo cazzo bellissimo cazzo bellissimo cazzo bellissimo